e ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video oggi siamo qui vi faccio vedere che andiamo a fare una prova del fumo che esce dai fumaioli del titanic li andiamo a completare che mi sto sentendo con un amico e poi andiamo a mettere i serbatoi all'interno dei fumaioli così in modo tale da fare tutti i collegamenti e da fare il tutto andiamo ad iniziare a montare i fumaioli andiamo a prendere il primo questo che numero è dietro sta scritto che numero questo è K3 e lo andiamo ad agganciare qui con il K3 ragazzi vedete K3 e K3 lo andiamo ad agganciare ecco qua e andiamo a mettere all'interno i cavi elettrici all'interno del fumaiolo del titanic ecco qua il primo è montato andiamo a fare la stessa cosa con gli altri due e andiamo a fare la stessa cosa con i cavi elettrici allora andiamo a vedere questo è K1 K1 e questo ragazzi è K2 andiamo a fare K2 e K2 andiamo a fare la stessa cosa con i cavi 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 andiamo a fare la stessa cosa con i cavi 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 i cav